Assessore D'Ignazio, rigettato il ricorso del Movimento 5 Stelle per il doppio incarico di Luciano D'Alfonso, ormai non c'è più lo spettro delle elezioni, sempre nel 2018 a novembre, ma probabilmente slitteranno con quasi certezza nel 2019. C'è tutto il tempo per lavorare? Innanzitutto, io devo dire che oggi la cosa più importante è che comunque il Presidente è stato anche assolto, anzi, è un luogo a procedere per le indagini che riguardavano Palazzo Centi. Queste sono notizie importanti per la Regione Abruzzo, considerando anche che per un momento è stata bersagliata la Regione da una serie di eventi che erano negativi. Sul fatto delle elezioni, io credo che adesso c'è più tempo di lavorare, ovviamente bisogna lavorare bene perché il tempo può essere amico e nemico, nel senso che si deve fare gruppo, fare squadra, guardare comunque alle elezioni che se non sono adesso saranno, ma insomma ci avviciniamo al periodo elettorale, credo che bisogna lavorare. Mi auguro e spero che il centro-sinistra sia capace di esprimere una candidatura forte, importante, qualificata, preparata, soprattutto quello che vogliamo dire, complimenti al Vice Presidente del CSM Giovanni Negnini e a quel punto Giorgio D'Ignazio Sarassi della partita, sono le condizioni, chiaramente un civico perché non sono un esponente del Partito Democratico, sono di una coalizione e quindi mi candiderò a fianco di una candidatura importante, altrimenti si faranno altre valutazioni perché dopo 20 anni di politica si possono fare anche altre scelte. Sicuramente mi porterò avanti il mandato conferitomi da questo governo regionale fino a quando non si andrà a votare, che la data naturale è il 26 maggio del 2019, vedremo poi cosa succederà tra le le giunte, io di questo non sono un grande esperto, mi auguro di avere il più tempo possibile per dimostrare la volontà, la voglia di fare, anche sbagliando, perché Giorgio D'Ignazio è anche una persona di grande, oltre che di cuore, di grande umiltà che sa che comunque facendo si può anche sbagliare e questo lo porto avanti come il mio credo, facendo e dando il più possibile, girando l'Abruzzo dal mare ai monti anche per veicolare la nostra regione a livello nazionale e internazionale, essendo a fianco alle amministrazioni e a tutti coloro che hanno bisogno del sostegno della regione in maniera particolare, tutte le aree interne e le città, oggi sono terminata questa conferenza, stampa Sarò dal sindaco di Teramo per arrangiare il progetto dello IAT su Teramo che dovrebbe essere uno dei più belli in assoluto di tutta la regione Abruzzo, speriamo bene.